adesso vi racconto la storia bella di questo cagnolino perché questo cagnolino poverino era era trattato male viveva legato alla catena e piangeva allora mi ha raccontato pepe zullo che è il proprietario di questa struttura che nuova sala paradiso e niente si è accorto di questo cagnolino niente se l'ha preso lui adesso vive libero poi girare può fare amicizia affettuoso perché come vedete gli sono mancate un po le carezze quando era più giovane e adesso niente vive libero vive con altri animali e contento un cagnolino salfato è affettuoso sì sei affettuoso ciao ciao ciao